Grazie a tutti. Ma in quella torre lì, di cui tu sei il padrone, perché tanto che non la prendono il capo, tu la, su all'ottantesimo, al centesimo, al centoduesimo piano, dove i tuoi muratori possono trovare un buchetto sull'intonaco, se tu infilassi dentro il nostro simbolo qua, per noi sarebbe l'idea di fare. Grazie. Lei oggi è per il discoperto porto ruato.